Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Sara e oggi vi spiegherò come scaricare i dati dal vostro controller Trimble TSC3 utilizzando o una chiavetta USB oppure la connessione Bluetooth. Il primo passaggio da fare è collegare la chiavetta USB al TSC3. Bisogna farla dalla parte in basso in cui viene entrata. Accendere il TSC3. Che rileverà la memoria interna. Qua vi chiede se volete cercare degli audio, dei video file o in clicchino che non vi serve. Una volta collegata la chiavetta dal menu principale andiamo su Start, File Explorer, questa cartelletta con la denti di ingrandimento e siamo all'interno della memoria del device. Di fianco a MyDevice c'è una freccetta, bisogna cliccarla. Anche da questo menu potete rilevare la chiavetta, infatti qua Hard Disk si riferisce proprio alla chiavetta USB. Noi abbiamo già fatto il rilievo e quindi abbiamo i nostri file contenuti in Trimble Data, TSC3 e questi sono i nostri file. Ora per selezionarli bisogna fare Menu, Select Files. Se premete su All ve li selezionerà tutti. Se premete su Several potete selezionare quelli che vi servono. Ad esempio questo, questo, questo. Una volta selezionati bisogna premere su uno di questi e cliccare Copy. Una volta copiati bisogna andare ancora sulla freccetta e selezionare la nostra memoria interna, chiamata Hard Disk. Qua abbiamo già un PDF all'interno della chiavetta, ma non ci interessa. Premere nel bianco e cliccare su Paste, che vuol dire incolla. E in men che non si dica, avremo i nostri file a disposizione. Quindi potete benissimo rimuovere la chiavetta e avrete subito a disposizione i vostri file da poterli mettere nel computer, elaborarli oppure mandarli ai vostri collaboratori. Se volete un modo molto più veloce e pratico per scaricare i dati e scambiare con i vostri collaboratori potete utilizzare anche il Bluetooth. Vi faccio vedere l'esempio con uno smartphone ma ovviamente potete applicare questo metodo a qualsiasi dispositivo che dispone della connessione Bluetooth per esempio il vostro computer. Ok, sempre dal menu principale andate sullo Start e selezionate File Explorer. Da qui selezionate il vostro lavoro che volete inviare tramite Bluetooth. Io per esempio utilizzerò questo qua, Frazionamento. Bisogna sempre tenere premuto e scorrere verso il basso fino ad arrivare a questa scritta Beam File. Cliccare su Beam File e il nostro controller inizierà a cercare gli altri dispositivi. Ovviamente bisogna accertarsi che il Bluetooth sul vostro dispositivo sia attivo. Infatti il nostro è attivo. Ce l'ha già trovato. Cliccare su il dispositivo scelto e c'è arrivata subito la notifica. Ricevere il file Frazionamento Accetta Ed ecco qui il nostro file da poter condividere in tempo reale con i propri collaboratori. Bene, spero che il video vi sia stato utile. Se avete bisogno di qualsiasi cosa non esitate a contattarci o a scrivere nei commenti. E ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!